per entrare nel futuro pieno di insidie e trabocchetti. Ad esempio, ricordate la foto del Papa col piumino bianco? Vediamola. Questa foto non è mai esistita, è stata realizzata solo grazie all'intelligenza artificiale che ha tanta e tale di quella potenza da poter simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano attraverso un semplice computer o addirittura un telefonino, se ben dotato. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale, la nostra stessa voce può essere riprodotta in tutte le lingue del mondo. E questa novità ha messo in allarme un'eccellenza tutta italiana, quella dei doppiatori. Roberto Pedicini, uno dei più famosi doppiatori italiani, il Jack Folla di Diego Cugia di Radio 2. Buongiorno, ma anche Kevin Spacey, Jim Carrey. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti. Tu adesso sorridi, però... C'è poco da ridere. C'è poco da ridere e quello che si sta per lanciare è un vero e proprio warning, un attenti all'intelligenza artificiale. Hai fatto un esperimento, hai girato un filmato in italiano, che adesso vediamo. Seguite con attenzione. Prego. Questo è un video dimostrativo per vedere come funziona l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un mondo davvero complesso, totalmente pericoloso, assolutamente non dico da evitare, perché ovviamente ognuno di noi dovrà averci a che fare. Però è un modo importante da capire, da conoscere, da condividere. Questo video deve durare almeno 30 secondi, altrimenti il video non verrà riprodotto in un'altra lingua. E ora vedremo come sarà in un'altra lingua. Il video è stato inviato e dopo poco è tornato così, inquietante. Ceci è una video di dimostrazione per vedere come funziona l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un domone extremamente complexe e dangereux, che è impérato di ne pas négliere, perché è evidente che tutti noi dovrò inizialmente fare face a questi fissi considerati. Cependant, è un mondo importante da comprendere, da conoscere, da partagere. «Cet video deve durare almeno 30 secondi, sinon la video ne sarà pas jouée dans une autre langue. E maintenant nous verrons comment cela sera dans une autre langue. » Adesso c'è poco da ridere. «Je ne parle pas français comme ça. » «Allora, tu non parli francese a parte due o tre parole. » «È impressionante, anche il labiale. » «Quello soprattutto, infatti. Perché nasce tutto da lì il concetto dell'intelligenza artificiale, perché a parte la voce che avete sentito è identica. Io mi ci riconosco, per cui la vedo che è uguale. » «Ma il problema è proprio quello, cioè il labiale. » «E se noi andiamo all'origine, cioè se un Robert De Niro, un Leonardo DiCaprio parlerà in inglese, reciterà nella sua lingua, e il futuro film verrà inviato in francese, in Germania, in Francia, in Spagna... » «Ma gli attori americani che ne pensano di questa cosa? » «Allora, loro sono ancora in sciopero. » «Non so se sono in sciopero solo per questo motivo, ma sicuramente loro sono ancora in sciopero. » «Gli cineggiatori hanno terminato lo sciopero, per cui... » «Però, va detto che i doppiatori italiani hanno fatto un grosso favore a tanti attori. Noi qui giochiamo sempre con il padrino Marlon Brando. Non è che la voce di Marlon Brando in originale fosse granché. Io, per esempio, tu hai doppiato Kevin Spacey, sei il doppiatore di Kevin Spacey. » «Sì, sì. » «Che voce hai in originale? » «Beh, più o meno simile alla mia. Forse ce l'ha un po' più rugosa, per certi versi, però non ho una voce bella. In realtà il concetto dell'eufonia e cacofonia, ce l'abbiamo un po' noi in Italia. Cioè, noi siamo abituati che i doppiatori abbiano delle belle voci, ma in realtà... » «E anche gli attori? » «Sì, ma non tutti, se ci pensi. Cioè, il caratterista ha una voce da carattere. Però, quando fai i cartoni animati... » «Il papà di Nando Gazzolo, per esempio, Lauro Gazzolo, faceva sempre... » «Cì, sì, 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 la voce... » «Eravano tutti i caratteri, no? » «Dell'epoca, esatto. Ma anche i cartoni animati stessi, che hanno delle caratterizzazioni, non devono avere la bella voce, no? » «Ecco, a proposito di cartoni animati, tu chi hai doppiato in tema di cartoni animati? » «Beh, Gatto Silvestro, Pippo, Timon... » «Pippo, come parla Pippo? » «Oh, io! » «Ciao, Tiberio! » «Bon compleanno! » «Pippo, per esempio... » «Fermo! » «Gatto Silvestro, per esempio... » «Gatto Silvestro, vai! » «Sinfonie di foglie alle siramesi! » «Ciao, Tiberio! » «Buon compleanno! » «Oh, oh! » «Mi è sembrato di vederle un gatto! » «E io mi ti pappo! » «Vediamoti all'opera, con un telefilm che è andato in onda sulla Rai, «La Narcotici! » «C'è due ragazzi in coma all'hotel V. » «Sì, sì, arrivo... » «E c'è della droga! » «Ho detto che sto arrivando! » «Fa presto! » «Sono già in macchina, compagno Sara e vengo subito lì, d'accordo? » «Briga! » «Sì, cinque minuti! » «Arrivo! » «Ma che stai facendo? Sei impazzita? » «Metti dentro il lampeggio! » «È vietato! » «Ma che ti viene in mente? » «Mi fai passare un guaio! » «Visto quante sfaccettature deve avere un doppiatore, » «ovviamente il problema c'è e i doppiatori italiani sono preoccupati! » «Cosa pensate di fare? » «Siamo molto preoccupati, in realtà siamo stati in sciopero anche per questo » «adesso vedremo che cosa accadrà, ma sai, io credo che sia inarrestabile il processo della tecnologia! » «Quindi arrestare l'intelligenza artificiale è impossibile! » «Lo possono decidere forse soltanto i grandi della Terra, noi non lo possiamo decidere! » «Potremmo vedere o meno se vendere o no la nostra voce, perché molti sono già stati contattati per questo! » «Adesso c'è anche un'altra pratica, cioè Roberto Pedicini dà la sua voce, legge per una mezz'ora delle cose, » «dopo di che poi non deve più doppiare, basta un computer! » «Poi in realtà traduce, come è stato questo esempio del video, in realtà qui c'era anche l'aggravante del video, » «ma se tu la fai soltanto in audio, se devi fare un audiolibro, piuttosto che un prodotto che è molto lineare, » «cioè, ha meno ancora difficoltà, se ci pensi! » «Pero, l'intelligenza artificiale può sostituire l'interpretazione di un grande attore, le sfumature, le intenzioni? » «Le intenzioni non le ha l'intelligenza artificiale, ma riproduce assolutamente i suoni ad oggi. » «Come hai sentito, questo video in realtà di imperfezione ancora, ma poco, » «considerando che questo video è stato traslato gratuitamente, su un sito gratuitamente, » «c'è anche una versione upgrade, che secondo me è anche migliore. » «Ma detto questo, insomma, ad oggi il perfezionamento credo che non esista ancora. » «Ma se devo fare una previsione, non la vorrei fare. » «Ma pessimisticamente, io credo che se questa cosa prende il piede sbagliato che sta prendendo, » «forse fra 4-5 anni sentiremo la voce originale di De Nilo, » «piuttosto che Johnny Depp di Capri, eccetera, » «che reciterà in italiano, in indiano, in cinese, in giapponese. » «Po, io penso, come tutti quanti voi, a Stalle e Olio, Alberto Sordi. » «Penso a Ferruccio, a Mendola, a De Nilo, adesso doppiato da Stefano e Sandro. » «Pensano anche di riesumare quelli che non ci sono più. » «Cioè, metti un Vittorio Gasman, un Alberto Sordi. » «Questo l'hanno già fatto, per esempio, nella trilogia di Christopher Nolan di Batman con Joker. » «Certo, certo. » «L'attore Heather Ledger era morto e hanno dovuto inventarsi qualche cosa. » «Poi la tecnologia va avanti a livello esponenziale. » «Lo scenario non è dei migliori. » «Non è dei migliori, direi proprio no. » «E qui c'è in ballo un giro di affari, non secondario. » «Ma di lavoro. » «Ma soprattutto, sì, di lavoro, ma di professionalità, di esperienza, di umanità e anche di eccellenza. » «Perché i doppiatori italiani nel mondo sono i migliori. » «In bocca al lupo a Roberto Pedicini e a tutta la tua categoria dove ho molti amici. » «E grazie per le emozioni che ci trasmettete ogni volta. » «TG2, Laura Pintus e le anticipazioni dell'edizione delle 13. »